Io nel frattempo invece chiamo qui vicino a me un altro tipo di formazione che è un insieme fra musicisti e studenti del Conservatorio di Musica Stanislao Giacomo Antonio, questo è l'esito di un workshop tenuto dal maestro Dario Della Rossa, Federica Greco, Diego Valtomare, Ciroberto Caputo, Simone Nicoletti, Valerio Pagliaro, Leonardo Pugliese, Francesco Caligiuri, Massimo Palermo. Mentre si sistemano, eseguiranno quattro brani, sono chiaramente tutti e quattro degli omaggi da Alfonso Rendano, variazioni sopra un tema calabrese, Valzer Triste, Lento Pensoso e Shandu Paisani. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Signore e signori, Francesco Di Bella. Grazie a tutti. Ehi, buona sera. Raccontiamo... Che stiamo facendo? Grazie a tutti. Buona sera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Gentilissimi. Quasi con fabbola. Vogliamo raccontare che cosa stiamo per fare? Durante il workshop abbiamo realizzato un testo per Chandu Paesan. non mi vorrei spendere in troppe parole però insomma è meglio che canti se l'ha detto pure lei prego se l'ha detto pure lei 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 se l'ha detto pure lei